Natale è arrivato, si sa che a volte non è semplice fare un regalo o trovare il look giusto. Cosa mi metto? Per fortuna gli amici di Trend and the City sono pronti ad aiutarci. Partiamo allora da Gloria Boutique, che è pronta a rifarci il look nel suo nuovo punto vedita di Via Emilia Est. Il nostro store si è rinnovato l'anno scorso a settembre, abbiamo creato questa nuova immagine per Gloria Boutique che è composta da tre tipologie diverse, la boutique che rimane sempre quella storica e la profumeria di nicchia che è sempre particolare perché una donna deve vestire anche un profumo, non soltanto un abito e l'ultima arrivata nel nostro store è la casa, il tessile, dove abbiamo tante cose particolari, sempre di nicchia, dedicate alla donna che vuole vestire anche la propria casa in un certo modo. Andiamo a svelare quali possono essere gli outfit per queste feste. Maglie in cashmere, tutte in cashmere, ma con qualche dettaglio anche di luce, cioè abiti in raso di seta, abiti con un tessuto laminato che fanno molto un po' più scenografici, che si possono indossare anche per una cena, una serata particolare. E per Natale immancabile un bel gioiello, entriamo allora dalla gioielleria Righi in corso Canal Chiaro, sotto le feste regalate un bel diamante oppure un rubino rosso come la passione, anche le perle costituiscono un regalo perfetto, da Righi vasta anche la collezione di trolbis, i bracciali componibili ricchi di significati. Un gioiello deve emozionare, deve raccontare qualcosa di te, ce ne sono dei più classici, dei tradizionali, degli innovativi, dai gioielli componibili in oro, in argento, con diamanti, il diamante per le donne è sempre importante. Per lui orologi, generalmente un bel orologio guardando anche le tecnologie, dell'innovazione delle tecniche, dell'eco drive della Citizen, guardando a un discorso ecologico, come anche l'artigianalità invece dei prodotti, i materiali, la ricerca dei materiali, dell'oro, dell'argento, abbinati insieme, come può essere una ditta di rubinia, che abbina col filo della vita l'oro e l'argento, i diamanti. E anche la casa, la sua importanza, da Fridas nel nuovo punto vendita di Via Lanfranco, le proposte sono davvero tante. La novità 2021, senza dubbio, sono gli alberi gnomo, di grande tendenza, però anche questi alberi fatti a mano, arrivati direttamente dall'Olanda, ricreati con punte di rami di pino. Per arredare la nostra casa, entrando nel mood natalizio, si può puntare poi sui centrotavola classici, sulle corone oppure sui festoni. Tutto si può personalizzare con bacche, pigne, mele di montagna, arance siccate, palline stelline, fiori di cotone. Preziosi e ottimi come regalo, anche questi flower box, che possono essere di cartone, metallo o addirittura di corteccia, arricchiti da una bella composizione floreale. Dagli abiti agli accessori fino alla casa, ora siamo pronti per vivere il Natale, che in centro storico è ancora più magico, grazie alle luminarie, agli alberi di Natale, ai presepi e alle installazioni. Anche le vetrine si impreziosiscono e si vestono a festa, per farci sognare e desiderare qualcosa di nuovo. Grazie a tutti.